John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi ho l'esclusiva da darvi, ho intervistato Marcello Chirico poi se volete l'intervista integrale la trovate tipo tra un paio d'ore sia sul numero di ads, sia su facebook, sul mio facebook, sia sul mio instagram quindi mi raccomando ragazzi magari fateci un salto appunto per l'intervista a Marcello Chirico allora perché faccio questo video? Ci ho parlato, gli ho fatto diverse domande la domanda diciamo un pochino più interessante, la domanda forse che vi interesserebbe a voi un pochino di più è quella su Cristiano Ronaldo gli ho chiesto la percentuale con il quale secondo lui Cristiano Ronaldo potrebbe venire alla Juventus, potrebbe andare alla Juventus, potrebbe venire in Italia e la cifra che lui mi ha detto è 99%, io ho detto qualora si facesse lui ho detto si farà, si farà ha detto che mi ha sicuramente accertato, ha affermato che la trattativa andrà a concludersi al di là poi di come verranno risolti i cavilli burocratici quando gli ho parlato anche di Pjanic, della possibile partenza di Pjanic, mi ha detto che difficilmente la Juventus venderà ancora vorrebbero chiudere immediatamente l'affare Cristiano Ronaldo per poi ovviamente muoversi diciamo con tranquillità per quanto riguarda il resto della rosa ovviamente la spesa Cristiano Ronaldo elimina la spesa Milinkovic e Savic quindi qualora arrivasse Cristiano Ronaldo e secondo lui al 99% arriverà Milinkovic e Savic non farà parte della Juventus 2018-2019 fra l'altro anche perché mi ha detto lui, lo tito comunque tira molto 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 sull'offerta, cambia spesso idee quindi insomma non si può arrivare a certe cifre per un giocatore che poi in realtà a conti fatti ha fatto un'ottima stagione una buonissima stagione però resta comunque pur sempre una stagione. Per quanto riguarda il gap ragazzi il gap da diciamo da ricucire con il Real Madrid probabilmente il colpo Cristiano Ronaldo secondo il suo punto di vista potrebbe far ridurre questo gap con la differenza importante che il gap economico è molto molto differente dal gap diciamo di squadra, il gap di squadra appunto va colmato con i giocatori, il gap economico piano piano lo si sta ricolmando grazie a questi 12 anni in cui la Juventus è passata dall'inferno al paradiso dall'inferno della Serie B al paradiso di potersi permettere. Cristiano Ronaldo ribadisco trattativa che secondo lui andrà in porto. Ha detto io guarda io ti lascio, ha detto l'1% di possibilità che Cristiano Ronaldo non venga alla Juventus però è un lumino, un piccolo lumino perché è quasi sicuro che a breve la trattativa si chiuderà. Questa ragazzi è la notizia che vi do oggi è un'esclusiva quindi direttamente da Marcello Chirico che io ringrazio appunto troverete l'intervista integrale quest'oggi, adesso vi ho dato un piccolo diciamo una piccola anticipazione di quello che poi troverete, vi avevo detto che oggi c'era un'esclusiva e questa è l'esclusiva del giorno, io penso di avervi detto praticamente tutto quello che vi dovevo dire fatemi sapere con un commento qua sotto che cosa ne pensate, mi piace se volete altri video su Ronaldo e soprattutto se volete altri magari esclusive, altre chiamate, magari anche chiamate in diretta che andrete a sentire direttamente voi su Youtube e non miei riassunti io vi ringrazio come sempre per la visione, iscrivetevi al canale mi raccomando se ancora non lo avete fatto e buon shalala online come sempre ci vediamo ad un prossimo video